vedere i concerti di gente più brava e soprattutto più famosa questo ragazzo sostiene che questa ragazza si preparava con cui lina andare a vedere i miei concerti io non la conoscevo ma poteva andare a vedere i concerti di gente più brava e soprattutto più famosa cosa succedeva? diciamo che lei smetteva alle 9 di lavorare e alle 9 iniziava a suonare e quindi a casa si fermava il mondo perché lei doveva volare e più darsi al concerto perché vede suonare è vero questo? mi state prendendo per il culo? è vero, è vero facciamo un casino, facciamo un casino, io dovevo andare nei carri ma più che altro perché era furiosa, capito? era furiosa, sì, perché si doveva sbrigare doveva fare, doveva dire, quindi tutte le cose in camera fermi lei faceva le tazze che voleva grazie, spero che non mi stanno proteggere è bellissimo, ti adoro grazie, grazie